Professore! Perché gridi? Che sta succedendo? Winner e Fox hanno troppo caldo. Non respirano. Dobbiamo andare in un altro posto. Sì, a New York. Ma cosa sono queste sciocchezze? Perché volete andare a New York? Beh, perché lì adesso è Natale e c'è tanta neve. Cosa? E cosa c'entra Natale adesso? I miei occhiali! Io vorrei tanto vedere Babbo Natale. Dove saranno finiti i miei occhiali? Eccoli. Sono qui, professore. Oh, grazie. Allora, avete ragione. Effettivamente è dicembre e mancano due giorni a Natale e a New York starà nevicando. È troppo mortale! È a New York! Non credo sia possibile vedere Babbo Natale. So solo che si veste in modo strano, ma non si sa chi sia né dove si trovi. Ma io lo so. Dico davvero, so dove trovarlo. Ricorda che New York è un posto molto grande. Professore, io devo assolutamente incontrare Babbo Natale perché gli voglio consegnare una lettera, come fanno tutti quanti i bambini del mondo. Una lettera? Sì, devo dargli una lettera. Voi due accompagnerete Ari a New York. Andate a prendere accordi con Arbor. Evviva! Ritorno a casa! Evviva! Petro Babbo Natale!